Allora, Squid Game. Squid Game sicuramente è una serie tv che ha riscosso grande successo in questo scorcio di 2021, adesso è il finale di anno 2021 e adesso ad aprile è prevista la seconda serie, comunque la prima è stata di... insomma sembra essere una novità come per quanto riguarda la trama anche se ci sono persone che dicono che non è così, già questo tipo di situazioni si era visto in precedenti serie. Comunque per riassumersi c'è questo gruppo di sbandati, cioè sbandati, di persone insomma che hanno poco da perdere, che conducono una vita con grandi... con la felicità è un miraggio, hanno poco tempo per loro eccetera e quindi vengono selezionati per questo gioco dove in gioco c'è la loro vita, però se vincono c'è un monte premi assurdo che poi gli cambierà la vita e poi ci stanno tutti questi giochi infantili insomma, tipo Nascondino, un due tre stella eccetera... e poi alla fine vincerà il protagonista però insomma la vita gli ha cambiata e non riesce più a far meno di questo gioco e quindi insomma gli sviluppi sono interessanti anche nella seconda... da verificare ancora nella seconda serie. Qui in basso ti metto i link e spero che ti sia utile mettimi like e tutte cose... iscriviti eccetera... ciao alla prossima! Grazie!